buon pomeriggio a tutti è domenica e piove e ho deciso di fare un video non troppo originale ho notato che tutte le blogger più famose del mondo io non sono per niente famosa ma ci provo lo stesso hanno fatto il video cosa c'è nella mia borsa sì perché la borsa è fondamentale nella psicologia un mio amico psicologo mi ha detto che in psicologia la borsa rappresenta la vagina della donna non c'è niente di volgare in questo semplicemente rappresenta la curiosità la fantasia e quindi da una borsa si può capire moltissimo di una donna chiaramente dipende anche dalla situazione cioè la borsa può cambiare se dobbiamo andare direttamente a un concerto oppure a cena fuori però se dobbiamo fare la borsa e non sappiamo che programmi abbiamo per la serata usciamo andiamo a fare una passeggiata e non sappiamo come finirà la nostra serata che tipo di borsa usate che tipo di borsa fate quante cose ci mettete dentro allora io sono alla Mary Poppins cioè ho una borsa enorme questa è una delle mie borse preferite chiaramente l'ho riempita tantissimo forse di solito la riempio leggermente meno ma generalmente la riempio un sacco appunto la Mary Poppins quindi dentro ci sta di tutto di più questa è una borsa e la marca si chiama My Bag ed è una borsa in neoprene non molto costosa costa sui 79 euro la potete comprare alla coin e ha un dispositivo che è molto leggera come materiale perché il neoprene è molto molto leggero e si può lavare in lavatrice sinceramente dopo un tot di lavaggio inizia a rovinarsi la mia è già parzialmente rovinata in quanto l'ho già acquistata da circa due anni l'ho già lavata circa otto volte e io direi che questa borsa se la usate tutti i giorni ha un tempo di vita di un anno se la usate tutti i giorni se invece la usate meno può durare anche 3-4 anni però la consiglio a tutti è un'azienda italiana che ha avuto molto successo e adoro questa borsa e come potete vedere questa ha i disegni tipo l'ichtstein un po' pop art e è molto carina e si abbina facilmente a un sacco di outfit perché ha un sacco di colori quindi è molto facile da abbinare allora cosa c'è nella mia borsa? vado per gradi beh ovviamente il cellulare e come potete vedere ho una cover assurda una cover assurda questo è un iphone io ammetto che porto sempre due cellulari uno lo sto utilizzando per fare il video si è una cosa un po' da folgorata però è meglio avere due cellulari perché come potete sapere gli smartphone sono molto fragili quindi può capitare che uno smartphone si rompa oddio sto perdendo il cappello uno smartphone si rompa mentre siete fuori è normalissimo può scaricarsi la batteria può rompersi lo schermo può anche veramente rompersi a me una volta è successo in autobus l'autobus ha frenato il cellulare è caduto per terra ed era rotto e a volte siete magari a Parigi a Londra a volte è un disagio non avere il cellulare quindi il mio consiglio se avete una borsa grande è di portare anche il cellulare vecchio e quindi ho questo iphone con questa cover assurda che mia mamma critica poi vado a caso ho quasi sempre una pistola d'acqua sì perché se c'è noia ad esempio nella conversazione con un ragazzo perché non spruzzargli un po' d'acqua addosso soprattutto se è estate sembra una cosa infantile da bambini però a mio parere bisogna riscoprire il proprio lato bambino soprattutto se non abbiamo figli perché se li abbiamo sono loro a spingerci a ritrovare il nostro lato bambino ma se abbiamo la sfortuna di non trovare la persona giusta con cui fare un figlio come me e secondo me è molto importante ricongiungersi col proprio lato bambino e quindi a me è capitato di uscire con un ragazzo e di sparargli dell'acqua addosso e lui è rimasto molto sorpreso si è divertito ha incominciato a spararmela anche lui e insomma le persone nel bar non si sono lamentate perché alla fine si tratta solo di un po' d'acqua ecco poi porto sempre una bottiglietta d'acqua perché bere fa bene insomma e io porto sempre un piumino di quelli super leggeri perché anche se agosto magari arriva un temporale come oggi e di solito le persone che escono solo con la maglietta quasi sempre magari quando entra all'interno di un supermercato o di un negozio c'è l'aria condizionata hanno freddo e di solito sono io a prestagli uno dei due capi che ho di solito ho sia il golfino che il piumino ultraleggero poi un ombrello perché mai dire mai può sempre piovere questo è un ombrello bellissimo con le meduse lo adoro è meraviglioso poi carta di credito io la separo sempre dal portafoglio perché nel caso mi rubino il portafoglio non è detto che riescano a rubarmi anche la carta di credito lo metto all'interno di questa bustina e ho anche la carta di identità sì perché può sembrare impossibile ma possono sempre chiedere la carta di identità e rispetto alla patente e al passaporto la carta di identità è più facile da rifare quindi conviene portare questa io ho 34 anni però vi giuro che mi hanno chiesto il documento perché pensavano che fossi minorenne lo so magari voi non mi vedete così giovane però mi è capitato un paio di volte e quindi ho dovuto mostrarlo per forza la carta di credito io ne porto sempre due e io personalmente ne ho quattro non perché abbia tanti soldi assolutamente è che magari ho due conti eccetera e magari non funziona una ma funziona l'altra quindi ne lascio due a casa e due le porto con me in questo modo non ho mai scuse non ho mai scuse che io sapete non so se vi è mai capitato di uscire con qualcuno e che trovi la scusa ah non ho soldi paga tu è brutto è brutto è sempre bene avere un po' di soldi e questo è un bellissimo astuccio a forma di lattina che trovo molto carino poi ovviamente l'astuccio con i trucchi ah caspita ragazzi il video sta diventando lunghetto siamo già a sei minuti e vabbè dai vedremo chi avrà il coraggio di guardarlo tutto l'astuccio con i trucchi questo me l'ha regalato un mio carissimo amico che ha un negozio meraviglioso in via olivi si chiama Pierluigi Pittacolo e siccome ho comprato dei gioielli da lui mi ha regalato questo astuccio che secondo me è molto carino che è un astuccio giapponese e lui mi ha spiegato che le persone in Giappone vanno a teatro con questa borsetta di questa taglia esatta e mettono all'interno i gioielli e li indossano a teatro io porto solo i trucchi che mi servono per quel giorno perché portarne troppi non ha senso poi pesa troppo però porto sempre una bustina con le vitamine e il magnesio anche da regalare a un'amica perché quando ti senti male, ti senti svenire, non ti senti bene secondo me è una delle cose migliori assumere delle vitamine, assumere del magnesio anche semplicemente da dare a un'amica le lenti a contatto di riserva perché mai dire mai e i soliti trucchi il rimmel il fondotinta il farb un'aspirina perché non si sa mai e un tampax anche semplicemente da impressare a un'amica e vabbè, il rossetto che indosso oggi, eccetera il rossetto blu secondo me è fondamentale perché il rossetto blu spaventa gli uomini ed è, come dire se volete fare una cernita degli uomini coraggiosi intorno a voi mettete il rossetto blu che in Italia è molto poco utilizzato per vedere se attirate una persona coraggiosa perché si dice che il rossetto blu è un po' il rossetto delle donne carismatiche non tutte riescono a indossarlo e fa un po' paura perché è un po' antibacio allora, poi ho una cosa divertente che è questa cosa che forse avete sentito prima praticamente questo sono dei suoni l'urlo il rutto praticamente mettete questa cosa in borsa e mentre camminate si schiacciano i pulsanti per sbaglio e la gente sente questi suoni e si mette a ridere è veramente una cosa assurda e mio papà rideva tantissimo quando ce l'avevo in borsa perché sentiva queste pernacchie e questi ruti secondo me è veramente una cosa divertente secondo me si potrebbe anche inventare una storia basandosi su questi suoni chiaramente questo non lo porto quasi sempre ma a volte sì una batteria una batteria USB io ce l'ho da più di due anni per ricaricare il cellulare è veramente fondamentale e il cavo per l'iPhone che si smagnetizza quasi sempre il cavo per il Samsung perché io ho sia il Samsung che l'iPhone infatti li sto paragonando io mi trovo meglio col Samsung sinceramente le cuffiate per ascoltare la musica ovvio un bel giornale perché se siete sole se magari vi tira a pacco il vostro date io adoro VadintiFair perché sembra stupido ma non è stupido è un giornale che ha l'attualità del giorno ha degli articoli di politica articoli di moda articoli di curiosità e non è troppo impegnativo e si riesce a leggere anche quando si ha un po' di mal di testa anche quando si è stanche e costa poco perché qua in Italia i giornali costano poco non so se sapete che all'estero una rivista arriva a costare anche 10-12 euro noi siamo fortunati perché con 2 euro ce la caviamo poi immancabili gli occhiali da sole certo io oggi ho chiaramente scelto un occhiale da sole adatto al mio outfit questi sono occhiali un po' costosi della Miu Miu ma li adoravo preferisco una custodia per gli occhiali leggera cioè non quelle rigide ma quelle di tessuto in modo che non si appesantiscano dentro la borsa poi un astuccio questo è a forma di banana con dentro delle pene per disegnare io sono un'artista quindi è fondamentale e quindi per esempio ho questa bellissima penna giapponese per fare degli schizzi veloci in modo che se viene l'ispirazione anche fuori da casa si possono fare dei disegni una penna per scrivere matite tempera matite gomma fondamentale e soprattutto un indelebile per disegnare nei muri che non sempre ha consentito ma in alcuni locali si può fare un disegno sul muro e perché non farlo è bellissimo se sei un artista ma anche se non sei un artista semplicemente scrivere una frase importante per te però assicuratevi che il proprietario del locale è d'accordo con questa cosa perché in molti posti sono d'accordo gli fa piacere che la gente lasci un segno una borsa per se comprate delle cose extra e magari vi danno un'orrenda borsa di plastica è bello avere queste borse queste borse per mettere le cose secondo me sono molto molto utili questa è la forma di fragola poi il selfie stick che sembra una cagata però invece secondo me non è assolutamente un oggetto così inutile come sembra perché soprattutto quando si è da soli per fare i video meglio se si è magari a Parigi a fare una gita da soli in una capitale europea ci si possono fare delle foto meno deprimenti di un normale selfie cioè si possono fare delle foto più panoramiche quindi io lo odiavo questo oggetto invece ho scoperto che non è poi così male sinceramente ok poi per ridere ho messo anche questo questo è per massaggiare la testa al vostro compagno se per caso ne avete uno ok poi fondamentali le ballerine o anche un ricambio di vestiti sì perché magari usciamo coi tacchi e magari a fine serata non ce la facciamo più a camminare coi tacchi la ballerina può salvarci la vita come magari mettere uno short se avete la gonna per essere più comode il portafoglio è mancabile e ovviamente il portafoglio dice tantissimo di noi cosa c'è dentro il portafoglio se è ordinato se non è ordinato io ovviamente ho un portafoglio un po' ironico con dei gattini che fanno colazione e io ho poche cose dentro dentro il portafoglio ho una foto di mio padre ho le tessere dei miei dei miei negozi preferiti ma molto pochi perché non mi piace tornare sempre al nostro negozio pochi soldi perché è sempre meglio no? è sempre meglio viaggiare con poco contante al massimo 50 euro niente di più e la fotocoppia della della patente può essere utile perché io la patente la lascio sempre a casa a meno che non so che dovrò guidare quella sera perché appunto è molto difficile rifarla se viene persa quindi io vi consiglio di lasciare a casa la patente e il passaporto e altre cose ma poche cose poche cose mi piace tenere il portafoglio leggero il portafoglio dice molto della personalità delle persone e dai diciamolo è sempre meglio avere un preservativo nel portafoglio perché obiettivamente ragazzi non si sa mai e il sesso protetto è importante per quanto ci si possa vergognare di portarlo nel portafoglio è sempre bene averlo il mio famoso gioco coi dadi che avevo mostrato in un video precedente che è un gioco meraviglioso se siete fuori con un ragazzo o anche con degli amici o conoscete una persona sul momento è un modo divertente per scoprire la sua psicologia in quanto si fa una si fa una storia con i dadi e grazie a questa storia si capisce la psicologia della persona ecco qua poi lo spruzzino al peperoncino per difendersi io secondo me è veramente fondamentale grazie allo spruzzino al peperoncino io non ho avuto paura in delle situazioni in cui avevo delle persone che mi seguivano per strada mi dicevano ciao bello mi è successo varie volte ma grazie a questo mi sentivo molto più sicura chiaramente se ti aggrediscono in 5 in 6 è inutile ma se è una persona sola un ubriaco uno spruzzino al peperoncino può farti sentire molto più sicura ho tante cose nella borsa come vi ho detto sono una Mary Poppins Girl questo è il mio il mio porta euro a forma di borsa molto carino che si può usare anche come decorazione da attaccare alla borsa ecco qua siamo quasi alla fine chiaramente un quaderno dove scrivere i vostri pensieri prima l'ho bagnato purtroppo perché ho messo la bottiglietta dentro la borsa e si è rovesciata dentro la borsa un quaderno dove io ora non ho disegnato perché io al di là di quello che pensano gli altri spesso mi limito a scrivere perché per trovare l'ispirazione scrivo però è fondamentale avere qualcosa su cui scrivere secondo me quando siete da soli fuori è bello poter buttare giù i vostri pensieri uno snack al cioccolato Kinder Delice i facciolettini che ho barato perché io non li ho quasi mai però una brava ragazza ha sempre i facciolettini e sono più utili di quello che sembra una spazzola io adoro questo tipo di spazzola senza manico e le bolle di sapone al posto di fumare una sigaretta fatevi due bolle di sapone ragazzi le chiavi di casa ovvio e come potete vedere ho un portachiavi Lego e un portachiavi Totoro per chi lo sa famoso regista Misayaki giapponese andate a vedere questo cartone film che è favoloso e poi ho anche la moneta per il carrello molto utile perché a volte non si ha la moneta per il carrello invece io ce l'ho sempre e il minimo delle chiavi indispensabili perché è inutile portarsi chiavi che non servono sono arrivata alla fine una pallina rimbalzante perché pesa poco e può sempre essere divertente questo è un giochino che adoro non so se molti di voi lo avevano in versione grande da bambini questa è la versione piccola ed è un gioco bisogna schiacciare i denti dell'ippopotamo ecco insomma è un gioco di riflessi bisogna riuscire a non a non a non farsi mangiare il dito dall'ippopotamo e questo per chiudere in bruttezza tutti pensano male chissà cos'è questa cosa invece è un è un massaggiatore per la schiena però tutti pensano male pensano che è un'altra cosa no ragazzi è un massaggiatore per la schiena chiudo dicendo che questi orecchini li ho fatti io molti di voi li hanno già visti però mi fa piacere mostrarli questi sono tema musica e questo cappello l'ho acquistato a Venezia non ricordo il nome della ragazza che li fa però è un'artigiana è un'artigiana un'artigiana veneziana e il bello di questo cappello e ora sono tutta spettinata è che può cambiare forma quindi per esempio un'altra forma possibile di questo cappello è la seguente praticamente aprirlo ecco qua così quindi mi sembrava stupido fare un video per parlare solo di questo cappello quindi ve lo mostro chiudo il video così ragazzi 17 minuti 18 minuti mamma mia quanto ho parlato mi dispiace lancio la sfida alle mie amiche alle mie amiche a Laura a Carolina ma a tutti a tutte com'è la vostra borsa che tipo di borsa avete secondo me è la ragazza che ha solo la borsa e lui vi to un piccolina con dentro solo il cellulare solo la carta di credito io non mi fido troppo di quelle persone però mai dire mai magari lo fanno per comodità magari sanno che andranno solo che ne so a comprare qualcosa al supermercato e torneranno a casa in quel caso ha senso però se uscite e non sapete come sarà la vostra serata sicuramente una borsa del genere può diventare una forma di intrattenimento può diventare un gioco può diventare un'espressione della vostra personalità buona domenica a tutti da Francesca e voi cosa avete dentro la vostra borsa grazie a tutti